ma lui lui questo qui ha fatto anche cose buone e quando c'era lui i treni passavano in orario a parte che battuta di troisi se il problema fossero stati veramente i treni non era necessario farlo capo del governo bastava farlo capo stazione essa difficoltà la eliminavi ma inneggiare a mussolini o al fascismo può comportare problemi e succede per esempio se questo inneggiare è finalizzato a creare proseliti per la ricostituzione o il consolidamento di un nuovo partito fascista o che si ispiri a quegli ideali nessun problema invece se l'espressione di encomio fatta al movimento al personaggio è fine a si stessa perché la libertà di espressione è un solido principio della nostra costituzione e nell'ambito delle espressioni anche quelle meno condivisibili possono essere liberamente rappresentate è il diritto penale che stè